Buongiorno a tutti, grazie a Rinascita Digitale, a questa bella iniziativa di formazione, di condivisione e anche di vicinanza in questo che non è proprio un momento facilissimo. Cosa vogliamo fare oggi? Vogliamo provare a condividere appunto una parte di questo momento parlando di organizzazione e soprattutto di leadership in un momento, che è un momento sicuramente particolare, è un momento che già prima di questa esperienza della pandemia sapevamo tutti essere un momento di grande turbolenza e di grande cambiamento. Allora, io provo a questo punto a condividere con voi un po' di slide, tanto per cambiare, speriamo di non annoiarvi troppo. Ecco, ditemi se vedete tutto. Allora, questo è il nostro argomento di oggi. Oggi parleremo di leader come sense maker e finalmente daremo anche una risposta a questa veredetta domanda, ma cos'è il sense making? Andiamo a vederlo insieme. Bene, vi dico soltanto brevemente perché sono qui, chi sono io? Io mi occupo di formazione, guido una scuola di formazione, sono una giornalista pubblicista e sono redusce anche della pubblicazione di un nuovo saggio. Se volete saperne qualcosa di più su di me mi trovate su LinkedIn, quindi su link che avete già nella pagina di Rinascita Digitale, oppure anche su Twitter. Però, a parte questo, siamo qui oggi per porci qualche domanda. Queste sono, diciamo, le tre che vi suggerirei, che vi proporrei. Le tre domande riguardano quello che sta accadendo, quali sfide quello che sta accadendo ci pone, quindi che sfide sono tipiche di questa situazione e perché a queste sfide vogliamo rispondere con questa pratica, con questa attività che si chiama sense making. Allora, se siete d'accordo, partiamo subito e andiamo a vedere cosa sta succedendo. Io partirei con un video che magari qualcuno di voi ha già visto o magari no, perché mi sembra molto efficace nel sintetizzare che cosa significhi la trasformazione digitale. Vediamo. Una volta che il negozio come sempre era molto buono. No più. Oltre dove stiamo andando, il buono è morto. In un mondo dove tutto è collegato, dove tutto è ugualmente eccellente, dove la performance è arrivata alla perfettura, c'è solo un spazio per innovare in. Tu. Right now, tu sei un punto centrale nel tornado di cambiamento fulgato da digitizzazione, mobilizzazione, aumentazione, disintermediazione, automazione. Beh, la lista va a continuare. La fiazza è diventata una fiazza. Pensate a self-driving cars o computers that can learn and think. Dunque, lo fermo qui, perché più che seguire tutto il video, che poi è un video di un, come dire, chiamiamolo un futurologo, ci interessa andare a cogliere alcune parole chiave di questo video, che rappresenta un po' al meglio la maniera in cui abbiamo raccontato che cos'è la trasformazione digitale, fino a qualche giorno fa, diciamo, prima che i nostri argomenti di discussione venissero catalizzati dal coronavirus. Che cos'è la trasformazione digitale? Allora, io ho provato ad appuntare qui alcuni elementi essenziali. Allora, anzitutto parliamo di una enorme disponibilità di informazione. Informazione non significa solo big data, quindi grandi quantità di dati condivisi in tempo reale, complessi, a piacere, rilevati e trasmessi, ma significa, appunto, elaborati. Quindi un dato che è già diventato informazione, un dato che è già stato elaborato in qualche modo ed è già stato, appunto, diffuso. A questo punto entra in gioco, però, il fatto che per questa diffusione è essenziale il secondo elemento, cioè la connessione. Una connessione che non è solo tra uomini, ma è tra uomini e macchine, perché i dati hanno effettivamente due tipi di fonti. Una siamo sicuramente noi, l'altro è tutto quello che ci circonda, rilevato e continuamente registrato da dispositivi che tramite sensori di vario tipo lo acquisiscono. E a questo punto arriva il terzo elemento, che non è più, però, un elemento tecnologico, perché la trasformazione digitale è guidata dalla tecnologia, ma è anche spinta da fattori sociali. In questo caso, la condivisione. Di condivisione parliamo quando, tutte le volte che nominiamo la sharing economy, ma si parla quasi da un ventennio. Quindi c'è un libro del 2000 di Jeremy Rifkin che parla dell'era dell'accesso, cioè un'era nella quale passiamo dal voler possedere i beni, dal voler possedere tutto quello che ci serve a l'accontentarci di utilizzarlo. Quindi diventa più importante poter usare un bene o un servizio rispetto a possederlo in pianta stabile. Quello che facciamo, a questo punto che cos'è? È condividere quello che ci serve quando non ci serve più e a questo punto rendiamo più flessibile la fruizione del bene o del servizio, in maniera che anche altri ne possano beneficiare quando a noi non serve. Andiamo a colmare dei vuoti, sostanzialmente, no? Se qualcosa è mio, prima succedeva così, lo uso io, se ne hai bisogno di tu devi acquistarlo. E invece adesso, se qualcosa anche ci appartiene, possiamo passarlo ad altri. Questo naturalmente è a sua volta abilitato tecnologicamente. E allora, che scenario ne viene fuori? Anzitutto, uno scenario di contesto che vede il nostro intero mondo diventare smart. Noi parliamo spesso di smart cities, no? Le città in cui lavoriamo, studiamo, acquistiamo, no? E ci spostiamo. E in realtà non sono solo le città, ma naturalmente sono le industrie, naturalmente sono i network sociali. Tutto è diventato interconnesso e siamo di fronte a una vera e propria, come chiamarla, l'integrazione tra l'universo naturale e l'universo artificiale. Qualche sociologo parla di sociomaterialità. Noi potremmo chiamarla piuttosto internet delle persone, delle cose, quindi non solo internet of things, ma internet of people and things, perché le informazioni fluiscono attraverso sia la dimensione umana che quella delle macchine. Per esempio, questo succede nei sistemi avanzati di produzione. Abbiamo tutti sentito parlare di industria 4.0. Ecco, qui uomini e macchine, lavorando insieme, cooperano sulla base delle informazioni che hanno raccolte per arrivare a un risultato che finora era impensabile, cioè la customizzazione di massa, la produzione di beni o di servizi che sono fatti su misura per una persona, ma questo avviene non per una persona soltanto, ma avviene invece a livello di massa. Quindi avviene su una scala assolutamente di proporzioni mai raggiunte in passato. Naturalmente, in questo contesto, le organizzazioni devono, non possono fare a meno di cambiare. Le organizzazioni diventano elastiche, il loro assetto diventa quasi casuale, cioè non c'è più una gerarchia, non c'è più uno schema prefissato di organizzazione, ma vincono i modelli agile. Tutti abbiamo sentito parlare di agile, che è un termine che nasce nello sviluppo software. Agile ormai si usa anche in senso traslato come strategia di project management e serve proprio a identificare una modalità di gestione che è una modalità pronta sempre a rivedere, a ritornare, ad adottare un modello iterativo, quindi tornare su se stessa per cambiare, rivedere quello che è stato pianificato e quindi quello che bisogna fare. Altra cosa tipica di questa epoca è la cosiddetta servitizzazione. Cosa significa? Che invece di essere, per esempio nel mondo delle imprese manifatturiere, invece di essere dedicate a produrre un certo tipo di bene o un certo numero di beni, le imprese si riadattano, quindi si riorientano verso la fornitura di servizi. Quindi non è più tanto importante il prodotto che io diffondo, è invece importante il servizio che io costruisco su questo prodotto e in base al quale posso naturalmente seguire il cliente lungo tutta la sua vita di cliente. E questo implica però che siccome abbiamo detto vogliamo produrre il bene o il servizio adatto per la singola persona, per il singolo individuo e fare questo a livello di massa, naturalmente l'organizzazione del lavoro non può non essere dinamica. Lo stesso carico di lavoro, il workload diventa dinamico e diventa anche molto difficile da controllare e da pianificare. Questo, ahimè, ha un'implicazione su, per esempio, molto forte sul lavoro dipendente, ma questo è vero un po' per tutte le organizzazioni. Cioè all'interno delle organizzazioni chi le compone si schiera su due poli. C'è una polarizzazione. Da un lato risorse che sono risorse pronte a seguire questo cambiamento, che sono risorse che possiedono degli strumenti che sono culturali, non solo tecnologici e personali, e dall'altro invece risorse che fanno più fatica e che quindi rischiano di essere lasciate indietro. Questo si vede molto meglio dal punto di vista del cambiamento dell'individuo. Allora, cosa accade a livello individuale? Accade innanzitutto che c'è sempre di più una tendenza alla sovrapposizione tra il piano personale e il piano professionale. Questo lo sappiamo da almeno 20 anni, cominciava a raccontarcelo il Clou Train Festo almeno 20 anni fa, raccontandoci appunto che siccome i mercati sono conversazioni, sono conversazioni tra chi sta fuori e dentro dalle aziende e non può essere arrestata questa conversazione che naturalmente vive sulla rete, che usa come suo strumento la rete. Questo significa che sempre di più chi produce e chi consuma si scambia di ruolo e sempre di più si crea questo cortocircuito che addirittura in qualche caso è chi consuma pronto a diventare a sua volta un produttore. Questo l'abbiamo visto benissimo, ad esempio, sul mondo degli user generated content. quindi per quelli della mia generazione, YouTube, ma naturalmente i più giovani possono fare esempi anche molto più recenti. Che cosa implica il fatto di diventare da consumer, prosumer? Implica il fatto di essere molto più autonomi e responsabilizzati. Questo però vale non soltanto per i singoli individui, ma per i componenti delle organizzazioni lavorative che appunto passano, sperimentano e poi adottano in pianta stabile il cosiddetto smart working, che come tutti sapete non stiamo facendo, nel senso che quello di questi giorni è sicuramente un buon esperimento, un lavoro a distanza, ma perché ci sia smart working in presenza o a distanza bisogna che si possa parlare di lavoro per obiettivi, quindi di un lavoro che è finalizzato al raggiungimento di obiettivi precisi. Quando questi obiettivi sono così incerti, sono così veloci a cambiare, sono così sottoposti appunto alle variazioni del momento, cosa succede? Si diceva che la forza lavoro, i componenti delle organizzazioni, non sono più a loro volta un corpo stabile, un corpo diciamo coeso, compatto che resta sempre quello, ma diventano un fenomeno aleatorio, diventano invece appunto lavoratori, collaboratori, molto spesso collaboratori esterni, diventano in qualche caso quei lavoratori che oggi diciamo siamo abituati a nominare, siamo abituati a considerare quasi come un caso insomma sociale, che sono i lavoratori della platform economy, quindi i rider, quindi gli autisti di Uber, quindi tutti coloro che appunto si innestano su questa nuova economia intervenendo con il loro lavoro, con quello che sanno fare, con la loro casa su Airbnb, ma non fanno più parte di un'organizzazione in pianta stabile. E è un bel cambiamento questo, che ci porta a sfide veramente importanti, in qualche senso sono sfide che questo periodo ha accelerato e ha reso ancora più evidenti. Sicuramente avete visto anche voi questa vignetta da qualche parte, è una vignetta che riguarda appunto molto scherzosamente la riflessione che tutti abbiamo fatto sul fatto che la digitalizzazione, che il passaggio al digitale, per esempio, ha subito reso evidente il cambiamento delle modalità lavorative e quindi mentre le organizzazioni prima erano tutt'altro che pronte o si dichiaravano tutt'altro che pronte appunto alla trasformazione digitale, a questo punto hanno quasi un po' dovuto diciamo prenderne atto, hanno quasi un po' dovuto farla diventare una necessità. Quindi quali sono le sfide che oggi si trovano ad affrontare? Anche qui ve ne propongo solo alcune. Allora, abbiamo parlato del cambiamento vorticoso, abbiamo parlato della velocità di questo cambiamento. Cosa ci porta? Ci porta anzitutto alla mancanza di controllo. L'organizzazione oggi più che mai si confronta con questo tema che non è solo un tema di controllo operato dei suoi componenti, no? Non parliamo solo di controllo manageriale, parliamo proprio anche di difficoltà a pianificare, parliamo di difficoltà a tenere fede alle pianificazioni fatte o anche a fare nuove pianificazioni che possano essere attendibili. Un'altra sfida è quella di riuscire a far tenere a tutti nelle organizzazioni il passo del cambiamento e se il lavoro diventa just in time significa anche che l'organizzazione non si muove più, appunto, come dicevamo, in maniera compatta e monolitica. La condizione stessa del lavoratore dipendente nelle aziende tende a diventare un'eccezione quasi. E questo innesca una specie di, diciamo, un meccanismo a due o più società in cui alcuni componenti dell'organizzazione si trovano decentrati rispetto a altri, entrano ed escono rapidamente magari e il risultato qual è? La perdita del senso di appartenenza. L'appartenenza è sempre stata considerata un valore dalle organizzazioni oggi per l'organizzazione digitale che è un'organizzazione così lontana smaterializzata forse essere leali e coesi diventa meno importante per esempio di sapersi integrare all'istante quindi della capacità di un'integrazione seamless che avviene nel momento stesso in cui ce n'è bisogno proprio perché tutte le modalità di produzione di pianificazione di organizzazione sono diventate istantanee sulla scorta delle informazioni sempre nuove che vengono raccolte ed elaborate. Un'altra ulteriore implicazione è la sovrapposizione dei piani che abbiamo visto deriva dal cortocircuito tra produttori e consumatori ma deriva in qualche modo anche dalla dilatazione del tempo e dello spazio che ci porta alla connessione continua. Questo è vero a prescindere diciamo di quello di cui ci occupiamo è vero per esempio in questo periodo specifico anche per gli studenti non solo per i lavoratori molto più difficile distinguere il tempo privato dal tempo invece dedicato all'attività. Il portato la sfida più grande quindi che deriva da tutte quelle precedenti qual è? È la sfida dell'ambiguità non si sa più bene qual è il significato dell'organizzazione cosa significhi stare all'interno dell'organizzazione qual è la fisionomia di questo ambiente di cui facciamo parte perché? Perché non c'è più un punto di vista privilegiato dal quale guardare l'organizzazione. Allora si tratta sicuramente di sfide si tratta però si può trattare anche di opportunità c'è una frase molto bella un verso di un poeta tedesco del Berlin che dice che là dove è il rischio cresce anche ciò che salva e questo è vero anche in questo caso l'ambiguità di cui abbiamo parlato in qualche modo infatti è una caratteristica fondamentale delle organizzazioni e tanto più dell'organizzazione al tempo della trasformazione digitale e bisogna anche tenere conto che nelle organizzazioni i legami non devono non possono essere legami necessariamente troppo stretti e troppo rigidi al contrario dei legami procedurali o dei legami logici i legami organizzativi sono come quelli relazionali devono allargarsi abbastanza da accogliere e da permettere il cambiamento altrimenti non c'è spazio per affrontare la complessità e l'incertezza anche l'incertezza è una grossa sfida ma senza incertezza come faremmo a continuare a porci delle domande senza incertezza come faremmo ad accogliere il nostro la nostra spinta il nostro slancio a saperne sempre di più naturalmente diciamo le sfide non sono poche non sono da poco probabilmente la sfida più grande che affrontiamo in questo momento in cui stiamo sperimentando in maniera precoce anche in maniera forse più impattante di quanto ci aspettassimo la trasformazione digitale è una sfida di invisibilità questo è un altro verso di un poeta tedesco che si chiama Ril che tutto si ritira nell'invisibile e questo lo sperimentiamo se ci chiediamo dov'è ora la nostra organizzazione dov'è l'azienda in cui lavoriamo o la scuola che frequentiamo oppure la nostra clientela a cui forniamo dei servizi ma potremmo andare avanti la squadra in cui giochiamo la comunità di cui facciamo parte non le vediamo perché non sappiamo che faccia hanno non le vediamo con chiarezza perché tutto è connesso e allo stesso tempo è inconsistente quindi abbiamo una grande incertezza su quello che significa per noi allora vedere anzitutto come facciamo a sapere quello che pensiamo se non vediamo quello che diciamo questa frase è una frase che deriva appunto da uno degli studiosi del sense making organizzativo ed è forse la frase di svolta che ci porta appunto a dare qualche risposta alle domande che ci siamo fatti vedere è fondamentale non vedere fino in fondo con chiarezza assoluta con precisione assoluta ma vedere le cose in un modo che abbiano un senso per noi solo questo ci mette in grado di agire solo questo ci mette in grado di organizzare ci mette in grado di affrontare il cambiamento e quindi alla domanda perché il sense making la risposta sta proprio qui il sense making che significa poi dare senso alle cose è fondamentale per l'organizzazione cerco di spiegarvelo meglio con un disegnino che vi potrà sembrare un disegno veramente un po' approssimativo in realtà è stato fatto apposta così da un'altra studiosa di sense making che si chiama Brenda Derwin parliamo di una disciplina che risale agli anni almeno 70 e 80 e questo disegno è fatto apposta così con questo tratto incerto quasi infantile perché vuol rappresentare il fatto che fare sense making non è un'attività intellettuale raffinata da cui noi ci aspettiamo una precisione ci aspettiamo invece la capacità di saltare un fossato questa figura così approssimativa così incerta col tratto disegnata col tratto così incerto è una personalità è una personalità in costruzione non è mai una personalità definita già compiuta come siamo un po' tutti noi e come ancora di più siamo all'epoca della trasformazione digitale con le nostre organizzazioni questa personalità parte da una situazione fatta di storie di esperienze di orizzonti pregressi e deve saltare questo fossato fatto di confusione di domande di incertezza di mancanza di informazioni deve arrivare al risultato risultato che è quello che si raggiunge con l'aiuto di informazioni e di azioni precise e allora per passare da questa situazione iniziale al risultato c'è bisogno di un ponte che consenta l'individuo di avanzare un ponte fatto di idee di pensieri di valori di ricordi che danno senso a questo divario nel fare questo passaggio l'individuo non è solo vedete ha un ombrello questo ombrello è fatto di valori che arrivano dal contesto dal contesto in cui siamo che è costituito da cultura da strutture di potere da strutture di sapere e dalla comunità di cui facciamo parte vedete che il ponte è costruito in maniera frammentaria perché sono tanti i pezzi gli elementi che dobbiamo mettere insieme vengono da fonti diverse prima che il ponte sia completato bisogna rassegnarsi a passare di là in maniera graduale solo parziale e bisogna anche sapere che una volta che abbiamo attraversato questo fossato potrebbe essercene un altro perché la nostra attività la nostra sfida di risolvere problemi e mancanze di informazioni è una sfida che in qualche modo non finisce davvero mai allora quando Brenda Darwin fa questo disegno in realtà lei ha in mente un sense making particolare cioè un'attività soprattutto di comunicazione è solo più tardi appunto abbiamo visto prima il nome di Carl Weich che si comincia a dire sense making e organizzazione sono la stessa cosa quindi a trasportare questo significato all'interno della disciplina delle organizzazioni cosa significa organizzare significa proprio dare senso a flussi di esperienza significa fare quella stessa cosa quella stessa attività che abbiamo visto fatta dall'omino disegnato col tratto incerto cioè bridging the gap cioè costantemente cercare di affrontare un problema di mancanza di informazioni come fare però ad affrontare questo problema attenzione ci sono diversi approcci possibili no ci sono per esempio strategie di problem solving ci sono per esempio strategie di gestione dei progetti allora quello di cui stiamo parlando in questa sede non è una di queste strategie cioè stiamo parlando di leadership della guida di un'organizzazione non della sua gestione le due cose vanno distinte in maniera molto molto precisa possono anche andare di pari passo ma quello che noi chiediamo al leader invece è il fatto di aiutarci a vedere non di avere una pianificazione precisa questo lo ripeteremo anche dopo ma invece di aiutarci a sciogliere un'ambiguità che sarà sempre presente non sarà mai un'ambiguità completamente sciolta ma che deve essere abbastanza chiarita dal consentirci di andare avanti quindi se ci mettiamo da questa prospettiva capiamo che nell'organizzazione non è tanto importante appunto disegnare le situazioni con tratti precisi ma dare un nome alle cose alle quali dobbiamo prestare attenzione e questo più che mai è vero nel momento della trasformazione digitale in cui appunto incertezze e ambiguità ci accompagnano sin dall'inizio sin dal principio e come vi dicevo quello che vogliamo non è tanto capire quale sia il ruolo di un manager che può essere per esempio un gestore di progetto che può essere un risolutore di problemi la figura che abbiamo in mente è quella di un leader un leader dice questo altro studioso è un fornitore di senso cioè cosa fa il leader in un'organizzazione incarna sempre la possibilità di sfuggire a quello che ci sembra incomprensibile a quello che ci sembra indifferente incorreggibile caotico dove noi percepiamo di non avere alcun controllo definitivo lì c'è un leader che ci fa capire che riacquistare questo controllo è comunque possibile che tentare di sfuggire alla mancanza di informazione e alla conclusione è comunque possibile e questa è l'attività sulla quale ci vogliamo concentrare questo è esattamente quello che fa il sense maker per andare ancora un pochino più nel dettaglio andiamo a esaminare quelle che sono le sette caratteristiche fondamentali del sense making quindi che deve tenere presente chi fa sense maker anzitutto il sense making ha a che fare con l'identità allora sicuramente anche voi in questo periodo avete avuto occasione di assistere a vari webinar avete avuto occasione così di partecipare a conversazioni condivise in rete a me ne è capitata una veramente molto bella nella quale ho ascoltato una persona che diceva in questo momento più che capire cosa bisogna fare bisogna domandarsi chi vogliamo essere quindi non tanto e non solo decidere delle azioni da mettere in campo quanto cominciare a dare una definizione di noi e questo è esattamente quello che fa il sense maker comincia chiedendosi chi vogliamo essere questa organizzazione che fisionomia vuole avere che faccia vuole avere qual è il volto che vuole prestare a tutti i suoi componenti un'altra cosa importante che bisogna tenere presente quando si costruisce il senso è che il senso deriva da quello che siamo già stati e quindi bisogna guardare indietro per poter guardare avanti è un'attività ritrospettiva il sense making cioè parte da tutto quello che abbiamo già in casa si guarda in tasca e trova delle credenze trova delle situazioni e trova delle convinzioni trova dei valori che sono quelli a partire dai quali appunto pezzo dopo pezzo come abbiamo visto nel disegno del ponte frammentario va avanti per superare il divario inoltre il sense making istituisce la parola inglese qui è enactment cioè è una attività quasi di fondazione chi fa sense making in un'organizzazione è in qualche modo come se la rifondasse è come se costruisse il luogo in cui l'organizzazione può abitare solo che non è un luogo fisico è un ambiente dotato di senso è un ambiente in cui tutti si possono sentire a casa questo è l'obiettivo di chi fa sense making naturalmente se abbiamo detto tutti capiamo già che si parla di un'attività sociale non di un'attività individuale e quindi attenzione perché quando si parla del ruolo del leader è spesso diciamo in agguato il pericolo di pensare a un'attività appunto individuale a un freerider che quasi va avanti rispetto a tutti gli altri senza farsi prendere ecco non è così nel caso delle organizzazioni chi vuole essere il leader in un'organizzazione deve assolutamente mantenere un contatto organico con tutta l'organizzazione quindi è un valore condiviso e collettivo quello che propone non è mai un'iniziativa isolata e personale ancora il sense making non si ferma mai cioè dobbiamo in qualche maniera riuscire a proprio tramite questa attività convivere col fatto che il senso che stiamo cercando lo costruiremo sempre pezzo per pezzo ma come vi dicevo prima dopo il fossato che abbiamo appena attraversato potrebbe subire un altro e questo ci riporta una caratteristica fondamentale della trasformazione digitale perché la trasformazione digitale forse non è nemmeno una trasformazione nel senso che tutti abbiamo in mente quando diciamo che la trasformazione parte da uno stato per arrivare a un altro parte da A per arrivare a B pensate insomma alla metamorfosi di una farfalla ecco la trasformazione digitale non è così perché non raggiunge uno stato definitivo continua ad evolvere e quindi chi fa sense making in questa in questa fase nelle organizzazioni digitali deve sapere che la sua non è un'attività che raggiungerà mai uno stato definito perché non raggiungerà mai uno stato definito perché le informazioni non saranno mai delle informazioni finali saranno sempre informazioni che vengono selezionate da una grande insieme di informazioni come abbiamo visto quello da cui siamo partiti se c'è una cosa che caratterizza più di ogni altra la trasformazione digitale è proprio l'abbondanza la pletora di informazioni disponibili chi fa sense making deve sceglierne alcune deve assumersi la responsabilità di selezionare le informazioni in base alle quali vuole costruire il senso dell'organizzazione e infine l'ultima caratteristica quella che fatemi dire mi sembra quasi la più importante più importante di tutti cioè il sense making mira alla plausibilità mira alla alla possibilità di costruire qualcosa che abbia senso non che sia necessariamente accurato qui vediamo appunto la differenza rispetto per esempio a un'attività di pianificazione strategica la pianificazione strategica è e deve essere un'attività assolutamente accurata assolutamente precisa e il pianificatore può essere un leader sapendo che però nel momento in cui si trova a trasportare il senso di quella pianificazione il senso non potrà essere fatto di informazioni dettagliate ma dovrà essere qualcosa che propone un quadro plausibile non è la precisione della visione che ci interessa non è il vedere in senso assoluto è vedere come e offrire alle persone un modo di vedere l'ambiente in cui si trovano l'organizzazione della quale fanno parte facciamo magari qualche distinzione così ci riesce anche di spiegare meglio proprio va bene ma cosa praticamente fa il sense maker il sense maker per esempio costruisce narrazioni costruisce storie abbiamo tutti sentito parlare di storytelling sappiamo tutto della della narrazione nelle aziende ma questo ha a che fare con il linguaggio invece un sense maker può anche partire dall'azione per esempio assumendosi delle impegni stimolando una discussione impegnandosi per fare accadere delle cose qui mi pare veramente che un esempio straordinario lo abbiamo avuto di fronte nei giorni passati con tutte le iniziative che sono sorte di canti collettivi dai balconi delle nostre delle nostre case ecco quello era esattamente un atto di sense making in cui un'organizzazione che non deve essere per forza naturalmente un'organizzazione aziendale può essere anche semplicemente un quartiere o un isolato ha fatto accadere qualcosa per dare senso a quello che stava succedendo proprio per riuscire a affrontare questo vuoto di senso nel quale tutti all'improvviso ci siamo trovati ora attenzione quando diciamo storytelling o quando diciamo discussione o quando diciamo assunzione di impegni stiamo dicendo qualcosa e non qualcos'altro quindi bisogna anche qui distinguere un pochino assumere impegni per esempio non significa affatto prendere solo decisioni perché perché l'abbiamo visto prima il sense making è un'attività sociale è un'attività condivisa la decisione isolata non costruisce un senso magari può far succedere qualcosa ma diventa un agire tanto per agire che non trasmette all'organizzazione la visione del momento del luogo in cui si trova resta quindi tutto nell'invisibile ancora far accadere una discussione organizzare una discussione non significa dare vita a un talk show e tutti noi meno quelli che diciamo vivono nelle aziende certamente una cosa che non rimpiangeranno in questo momento sono le riunioni in fiume organizzate in cui sembrava che non dovessero mai finire le discussioni ecco allora anche su questo fronte c'è da distinguere la discussione come atto di costruzione di un significato che tutti possiamo vedere in cui tutti ci possiamo riconoscere dal litigio o dalla discussione o dall'argomentazione fino a se stessa che serve soltanto far prevalere una delle parti in gioco la stessa cosa accade sul fronte del linguaggio costruire una narrazione non significa affatto continuare o cominciare a raccontare la storia la propria storia quando le aziende costruiscono le proprie storie è molto importante che queste storie siano storie in cui tutta l'azienda si può riconoscere altrimenti diventano dei proclami autoreferenziali che però non collocano l'organizzazione nel suo contesto non la fanno abitare veramente nel suo mondo e quindi non spiegano a chi compone l'organizzazione perché si trova proprio lì non gli fanno vedere qual è il suo posto e naturalmente la comunicazione che è quello che tutti noi facciamo è uno degli strumenti fondamentali non il principale ma è uno degli strumenti fondamentali del sense maker la comunicazione non può diventare propaganda di nuovo perché perché stiamo parlando di un'attività che deve essere sociale e condivisa che non può essere puramente celebrativa altrimenti diventa qualcosa di diverso è un'attività che sicuramente c'è ci può essere ma non serve a fare quello che invece noi vogliamo fare che come vi dicevo appunto è costruire un preciso senso è dare ai componenti dell'organizzazione una risposta alla domanda cosa ci faccio qui alla domanda dove è la mia organizzazione dov'è la mia azienda dov'è la mia scuola dov'è la mia squadra dobbiamo proprio per questo trovare un modo di riunire in un profilo in una visione che sia più possibile una visione plausibile per tutti come ho detto non una visione accurata ma una visione plausibile tutti i componenti e combattere quindi il fenomeno del quale abbiamo parlato il rischio di lasciarne qualcuno invece indietro l'ultima cosa che vorrei fare con voi è discutere magari un esempio che però sarà un esempio un po' particolare perché non vado a prenderlo da diciamo un contesto manageriale ma invece vado a prenderlo da un contesto storico e quindi lo vado a vedere adesso con voi vediamo forse qualcuno di voi conosce già o ha già sentito questa frase oggi non è la fine non è l'inizio della fine ma forse è la fine dell'inizio questa è una frase molto famosa pronunciata da un grande politico che soprattutto è stato un grande leader quindi non si parla qui di Winston Churchill come governante si parla invece della sua capacità di rappresentare una figura di riferimento per il suo paese in un momento veramente difficile e Churchill in quel momento si trovava la Mansion House era il 1942 e c'era appena stato un episodio di svolta un episodio epocale nella seconda guerra mondiale si trattava della vittoria degli alleati in Egitto nella battaglia di El Alamein e che è stata una battaglia veramente storica perché è stata una battaglia appunto di svolta una vittoria che diciamo era una vittoria inaspettata fino a quel momento sembrava che le truppe tedesche fossero semplicemente imbattibili e invece proprio questo episodio fece capire al mondo che Hitler non era invincibile che quindi la guerra poteva anche prendere una piega diversa ciò nonostante c'era ancora molto da fare allora quello che noi possiamo riassumere con questo piccolo racconto il mondo lo ha capito anche e proprio grazie a questa dichiarazione di Winston Churchill che fece capire a chi lo ascoltava che cosa in che direzione bisognava lavorare cioè Churchill chiarisce a tutti che c'è ancora tantissimo da fare che probabilmente quello che tutti si auguravano cioè che la guerra arrivasse a una conclusione possibilmente una conclusione diciamo positiva per gli alleati era qualcosa che non non era ancora iniziato però però rovesciando la frase precedente Churchill dice abbiamo incominciato a ribaltare la situazione cioè abbiamo preso a questo punto noi in mano le pedine adesso tocca a noi adesso possiamo giocare noi e adesso possiamo quindi veramente incominciare a far retrocedere a far accadere qualcosa di contrario a quello che è accaduto fino a questo momento non è affatto vero che stiamo andando verso la fine della guerra infatti ci sarebbero ancora stati tre anni di guerra ma è vero che a questo punto il nostro sarà un ruolo diverso e dobbiamo tutti quanti impegnarci per lavorare in questo senso perché diciamo volevo chiedervi appunto volevo proporvi questa frase per chiudere perché questa frase che amo molto io spero sia vera anche per noi oggi in un momento nel quale non siamo ancora ben sicuri di che cosa stia accadendo e ci troviamo veramente in una grande opacità e non sappiamo se sia a che fase di questa pandemia in che fase del percorso siamo certamente appunto non siamo alla fine e probabilmente non siamo neanche all'inizio della fine quello che tutti noi invece aspettiamo in questi giorni quello che tutti noi ci auguriamo è che si tratti invece della fine dell'inizio quindi io a questo punto vi ringrazio vi ricordo che poi troverete in queste slide anche una serie di riferimenti bibliografici che sono quelli che abbiamo percorso insieme che abbiamo visto insieme durante questa presentazione grazie a tutti ciao Paola eccoci io ricompaio sempre invito tutti quanti gli utenti nel frattempo se hanno domande ovviamente a porle nella sezione Q&A del webinar così che possiamo rispondere live insieme a Paola Chiara ti chiede come un leader sense maker risolverebbe i conflitti all'interno del team allora una cosa molto importante che fa un leader abbiamo detto è far vedere le cose allora innanzitutto i conflitti nella grande parte dei casi sorgono quando ci sono posizioni che non sono evidenti le une alle altre quindi il più possibile bisogna portare le posizioni a livello esplicito trovare un modo per farle confrontare sullo stesso piano quindi entrambe devono avere lo stesso valore devono essere due storie equivalenti è lì che comincia il confronto e finisce il conflitto quindi non deve essere mai un conflitto risolto come dire cercando il vincitore e il vinto molto probabilmente quello che accade invece è che la storia vera finale è la combinazione delle due che ciascuno racconta Stefano nel frattempo invece ti chiede possiamo dire che il sense making sia l'evoluzione dei processi di envisioning dunque li vedo come due strumenti complementari quando parliamo di envisioning stiamo parlando di una strategia che serve a proiettarci in avanti quindi envisioning significa per esempio rispetto a quello che stiamo vivendo ora proviamo a disegnare uno scenario di futuro che è uno scenario completamente inatteso però così alleniamo la nostra visione ci alleniamo a immaginare proprio un allenamento per l'immaginazione quello che succederà invece il sense making come abbiamo visto guardo soprattutto indietro perché vuole dirci adesso dove siamo vuole dirci come fare a superare questo fossato vuole dire come fare ad attraversare questo gap che è indispensabile attraversare per arrivare al risultato e quindi è nel presente Luca invece chiede come elaborare il sense making quando non c'è sufficiente storia passata da usare come fondamenta di costruzione ecco questo poi è qualcosa che per esempio possono vivere possono sperimentare le organizzazioni più giovani dal punto di vista lavorativo possiamo pensare alle start up però anche quando non c'è storia bisogna sempre pensare che il nostro patrimonio quello sulla base del quale costruiamo il senso non è fatto soltanto di avvenimenti è fatto anche di credenze di convinzioni di valori adesso per fare una citazione appena meno elevata se stiamo insieme ci sarà un perché cantava qualcuno ed è esattamente quello che bisogna tenere in mente quando si comincia in una qualsiasi organizzazione a raccontare se stessi per capire chi siamo quindi per fare quel lavoro di ricerca dell'identità non è necessario avere solo e sempre una storia basta invece mettersi lì a confrontare di nuovo gli elementi comuni i valori comuni le credenze condivise quelle che sono le comuni visioni del mondo o anche quelle che sono invece le visioni del mondo diverse quindi è un lavoro sempre di più di costruzione quello che a me piace molto della realtà delle start-up per esempio è la loro dimensione mitica mitologica quasi cioè c'è sempre un mito fondativo della start-up questo l'abbiamo visto nelle start-up di maggiore successo cioè quelle che poi sono diventate a tutti gli effetti delle grandi imprese c'è il mito fondativo del garage ce ne sono tanti altri ecco questi sono i nuclei forti di significato che magari non sono tanti perché appunto la storia è breve ma sono quelli a cui ci si aggrappa per andare poi a costruire tutto il futuro Fabio ti chiede il sense maker è un leader di transizione? Questa è una domanda molto interessante lo è in un certo senso cioè non bisogna pensare al sense maker come una figura istituzionale ecco diciamo così quindi sì può essere un leader di transizione soprattutto diciamo nel momento in cui abbiamo detto che c'è una transizione che è continua quindi non è detto che la figura che è in grado di incarnare al meglio la guida verso la visione condivisa sia sempre la stessa se invece il significato della domanda è se il sense maker viene attivato solo in momenti di transizione allora stiamo attenti perché tutti i momenti sono di transizione cioè come ci dicevamo questa che stiamo vivendo non è una trasformazione non si ferma non c'è un pit stop o forse ci sono pochi minimi pit stop anche quello che stiamo vivendo ci sembra uno stop non lo è affatto anzi è stata una grande accelerazione quindi c'è sempre bisogno di qualcuno che costruisce il senso non soltanto quando noi percepiamo di essere in una transizione gli studi che abbiamo visto di cui vi ho parlato sono stati costruiti negli anni 70 80 quando le organizzazioni lavorative avevano una fisionomia completamente diversa da quella di oggi c'erano gli uffici il capo che controllava eppure eppure anche quella è la vita dell'organizzazione già allora si fonda sull'ambiguità sul cambiamento sulla necessità di affrontare i gap che si ha aprono dunque io sto vedendo una serie di altre Giovanni ti dice non stiamo parlando di cultura aziendale più che di sense making non sono alternative non sono sicuramente alternative qual è la differenza che la cultura non ha una direzione cioè mi spiego meglio chi fa sense making costruisce cultura sicuramente e continua a raccontare diciamo quello che l'organizzazione è e questo entra a far parte di un patrimonio però questo patrimonio se noi ci limitiamo a costruirlo a raccontarlo e poi lo lasciamo lì non è necessariamente utile per farci vedere ricordarci chi noi siamo e quindi darci gli strumenti per andare avanti ci sono grandi culture organizzative che a un certo punto si sono atrofizzate si sono atrofizzate perché sono state prese costruite messe da parte non sono più state agite allora attenzione perché non basta costruire la cultura bisogna anche sempre che questa cultura venga riportata davanti agli occhi dell'organizzazione e che possa essere detto guarda che tu sei questo per esempio dicevamo fare sense making significa anche prendere impegni oggi le organizzazioni che per prime si sono poste per esempio riconvertendo la produzione abbiamo visto quante hanno cominciato a fare mascherine o la Ferrari che ha messo il marchio del cavallino sui respiratori sulle valvole dei respiratori che è una cosa fantastica io penso che sarei entusiasta insomma nella situazione che può essere ma sarei entusiasta di avere un respiratore col cavallino della Ferrari sopra allora quelle sono situazioni nelle quali c'è vitalità della cultura in cui c'è stata una risposta forte che non è stata una risposta verbale però è una risposta culturale anche quella di una cultura che resta viva e deve sempre essere agita allora questa è un po' la differenza Stefano ti chiede appunto se ci sono dei casi di best practice che per quale vuoi parlarci dove di sense making a cui ispirarsi e così via allora io il caso diciamo che avevo appunto citato mi è sembrato il migliore perché mi è sembrato un esempio abbastanza universale che non facesse pensare solo a una organizzazione lavorativa che non facesse pensare solo un'organizzazione sportiva il caso diciamo di Churchill ma come tanti altri casi tutti citano sempre per esempio il monologo di ogni maledetta domenica quando il leader fu interpretato da Al Pacino spiega per quale ragione bisogna giocare bisogna giocare in una certa maniera bisogna giocare tutti insieme perché o si vince tutti insieme o si viene annientati come collettivo allora attenzione non stiamo parlando solo di aziende ci sono stati dei grandissimi sense maker all'interno delle aziende secondo questi molte volte sono anche stati figure che coincidevano con i capi azienda secondo me quello che ha fatto per esempio in questi giorni perché ha intanto riconosciuto da tutto infatti la sua azienda non si è limitato a fare una donazione non si è limitato a diciamo versare un po' di soldi in charity ha ricordato da dove egli stesso veniva quindi dai Martinit del vecchio ha fatto capire come considerasse parte integrante della sua storia e quindi della storia della sua azienda il fatto di dovere contribuire a un benessere collettivo e a un impegno che non era soltanto un impegno per se stesso o per il futuro dell'organizzazione ma proprio invece per la vita dei dipendenti quindi ha integrato il loro stipendio con i propri stessi fondi spero di essere stata chiara Vito ti ha corso la sua domanda perché è lunghissima probabilmente non si riesce neanche non è neanche riuscito a scriverla tutta comunque dice come si fa a gestire situazioni in cui in un team alcuni membri non sono oggettivi e ribaltano le responsabilità su altri e perché chi dice la verità oggettiva è sempre colui che subisce le conseguenze allora diciamo che qualcuna delle persone che ho citato durante questo intervento potrebbe dire che non esiste una verità oggettiva cosa significa questo non che è tutto uguale significa che il primo passo per superare il conflitto e poi attenzione il superamento del conflitto è uno step di sense making non è il suo fine entriamo in un altro tipo di disciplina che appunto è una disciplina di gestione ma è una disciplina di costruzione del significato allora quando c'è una operazione di occultamento della verità sempre se non pensiamo solo al contesto aziendale pensiamo alle fake news allora qual è la maniera migliore non è mai una maniera oppositiva cioè non basta dire non è vero non basta dire non è vero perché probabilmente quella è un'operazione di potere non è un'operazione di sapere quindi è chiaro che quello che la persona che propone la verità manipolata sta cercando di fare è prevalere non è semplicemente affermare un punto di vista anche in quel caso quindi si entra in una negoziazione non basta dire quello che stai dicendo è falso dimostrare questa falsità si arriva soltanto diciamo a prolungare una discussione ci spostiamo proprio su un altro piano cioè ci spostiamo su un piano di negoziazione nel quale è molto importante che ciascuno renda chiaro e evidente che cosa vuole cioè qual è l'obiettivo che sta perseguendo io consiglio sempre di arrivare a questa domanda cioè qual è l'obiettivo una volta che abbiamo chiari gli obiettivi possiamo trovare anche il modo di accordarli e allora non siamo più sul piano delle descrizioni o delle storie più o meno oggettive o vere la verità in un'organizzazione è sempre qualcosa che si costruisce insieme è sempre qualcosa che tiene assolutamente conto dei fatti ma è sempre qualcosa che deve raggiungere un livello di plausibilità per tutti e guardate uno dei libri che ho messo in bibliografia che poi è questo che è il senso e significato nell'organizzazione si apre con una storia straziante se volete che è una storia medica cioè il fatto che dopo tante ricerche fatte diciamo dai medici americani molti di loro fossero arrivati appunto tramite queste ricerche a capire che c'era un fenomeno di violenza familiare sotterraneo la cosiddetta sindrome del bambino picchiato molti genitori arrivavano con i bambini che avevano traumi vari nei pronti soccorsi e raccontando che erano caduti che si erano fatti male giocando in realtà queste lesioni poi si scopriveranno lesioni vecchie di anni allora cosa ha dato la svolta alla comunità medica per riuscire ad affrontare questa situazione il fatto di dargli un nome la sindrome del bambino picchiato nasce in un momento preciso in cui i ricercatori come è successo pensate soltanto a quello che è successo per i femminicidi quando abbiamo cominciato a chiamarli femminicidi abbiamo cominciato a vedere chiaramente un fenomeno che è sempre esistito che è sempre esistito ma ha fatto la differenza il fatto di chiamarlo in una maniera precisa di dargli un nome preciso e quindi di vederlo in una prospettiva che fino allora non avevamo considerato ecco questi sono diciamo casi in cui le verità che sono sicuramente verità che hanno dei buoni fondamenti di oggettività però fino a quando non vengono messe in una prospettiva che è una prospettiva condivisa non c'è speranza che vengano riconosciute Paola stanno arrivando altre domande ma giungiamo verso il termine di quest'ora per cui invito tutti quanti quelli che volessero a scriverti privatamente hai lasciato prima i tuoi contatti giusto non so se vuoi ripetere nuovamente sì penso di sì potete comunque contattarmi su LinkedIn oppure sono su Twitter in ogni caso e insomma basta inoltrarmi una richiesta di contatto e vi rispondo grazie davvero a tutti grazie mille di essere stata qui con noi grazie a voi grazie a voi grazie a tutti ciao vi vediamo presto ciao ciao ciao